iniziamo seduti sulle ginocchia porta le mani di fronte a te con la prossima espirazione allungati nel cane a testa in giù inizia a piegare alternativamente le ginocchia ed allungare bene la parte posteriore delle gambe respira profondamente inizia a risvegliare il tuo corpo con la prossima inspirazione mani in mezzo ai piedi schiena dritta espira allungati verso il basso respira profondamente con la prossima espirazione porta le mani sui fianchi e poi inspira alzati in piedi inspira mani in alto e spira di nuovo giù espira inspira vieni su inspira le braccia al cielo espira scendi giù è l'ultima volta espira porta le mani inspira su espira inspira braccia al cielo espira allungati giù inspira schiena dritta espira allungati spira porta la gamba destra dietro vieni su nel guerriero 2 la gamba sinistra è piegata a 90 gradi la gamba destra rimane dritta le mani sono parallele al pavimento con i palmi rivolti verso il basso lo sguardo è rivolto verso la mano sinistra respira nel tuo centro ora inspirando allunga entrambe le gambe allunga bene il fianco sinistro verso l'alto respira profondamente ed espirando abbassati sul ginocchio sinistro con il braccio apri bene il braccio destro verso l'alto e guarda verso il cielo respira profondamente ora allunga il braccio destro palmo della mano rivolto verso il basso allunga bene tutto il fianco destro espirando porta la mano dietro fai una piccola torsione del busto mentre continui ad allungare il fianco destro ispirando mani a terra allunga bene anche la gamba destra porta l'orizzontale e allungati giù respira lunga tutta la parte posteriore delle gambe ispirando vai nel cane a testa in giù con la prossima ispirazione viene nella posizione della piattaforma ispira giù ispira apriti a cobra spalle lontane dalle orecchie e gomiti vicino al corpo ispirando vai nel cane a testa in giù con la prossima ispirazione mani in mezzo ai piedi schiena dritta ispirando porta le mani ai fianchi ispira vieni verso l'alto anche con le braccia mani in preghiera di fronte al cuore espirando scivola di nuovo giù mantieni la posizione respira profondamente con la prossima ispirazione schiena dritta ispira allungati di nuovo e ispirando porta questa volta la gamba sinistra dietro e vieni su nel guerriero due la gamba destra rimane piegata a 90 gradi braccia parallele al pavimento mantieni il centro attivo e il bacino retroflesso e ispirando allunga entrambe le gambe e allunga il braccio destro verso l'alto respira profondamente palmo della mano rivolto verso il basso con la prossima ispirazione piega la gamba destra porta il braccio destro sopra la gamba destra e allunga bene il braccio sinistro verso l'alto lo sguardo orientato al cielo e piano piano allunga tutto il fianco sinistro portando il palmo della mano rivolto verso il basso e di nuovo porta il braccio sinistro dietro alla schiena fai una piccola torsione guarda verso l'alto inspira respirando allunga entrambe le gambe questa volta portando il piede sinistro frontale allunga tutto il corpo abbandonati giù respira profondamente ora inspirando torna nel cane a testa in giù respira nel tuo centro inspira vieni nella posizione cobra espira allungati nella posizione del cane a testa in giù e ancora come un'onda muovi il corpo inspira apriti nel cobra inspira inspira cane a testa in giù inspira cobra espira cane a testa in giù senti il tuo centro attivo il movimento è fluido e costante inspira ed espira profondamente respirando vai nel cobra ora porta la gamba destra verso l'alto e portala in mezzo alle mani piegata a 90 gradi inspira vieni su nel guerriero 1 le spalle sono lontane dalle orecchie i palmi delle mani si guardano sguardo verso l'orizzonte inspira porta le braccia parallele al pavimento allunga la schiena espira riportala verso l'alto inspira mani avanti espira fai un cerchio riportale verso l'alto inspira mani avanti espira fai un cerchio riportale verso l'alto senti il tuo centro inspira mani a terra espira torna nel cane a testa in giù respira nel tuo centro senti la tua forza e la tua stabilità con la prossima con la prossima inspirazione gamba sinistra verso l'alto portale in mezzo alle mani a 90 gradi inspira alzati su guerriero 1 mani verso l'alto sguardo fiero verso l'orizzonte attiva il tuo centro inspira porta entrambe le mani parallele al pavimento espira fai un cerchio apriti bene dietro centro inspira avanti espira ancora senti la tua forza respira nel tuo centro ed espira porta le mani a terra e torna nel cane a testa in giù fai qualche respiro lento e profondo attiva il tuo centro inspira vieni a cobra espira cane a testa in giù ancora inspira apriti nel cobra inspira inspira cane a testa in giù ancora uno inspira espira e l'ultimo inspira cobra espira cane a testa in giù ora riposati per qualche momento nella posizione del bambino vai sulle ginocchia allunga bene le mani di fronte a te l'addome rimane attivo orientato verso l'interno la schiena è allungata il respiro è lento e profondo continua a respirare continua a respirare inspira inspira piano piano vieni su nella posizione della mucca inspira inarca la schiena espira premi bene le mani a terra inarca la schiena dall'altro lato fai partire il movimento dal coccige inspira apri espira allunga crea spazio tra le scapole inspira inspira espira rilascia ogni tensione e piano piano rilassa e vieni con le gambe di fronte a te allunga bene la colonna vertebrale verso l'alto e poi abbassati con le mani verso le gambe prendi i piedi le caviglie le cosce qualsiasi posizione che rimane comoda per te inspirando allunga la schiena verso l'alto espirando lentamente a partire dalla zona lombare piegati verso le gambe piano piano inspira allunga le mani scivolano sulle gambe espira abbassati poi piano piano abbassati sempre un po' di più a partire dalla zona lombare puoi portare il cuore verso le ginocchia arriva fin dove puoi e respira profondamente rilassati completamente in questa posizione cerca di mantenere il bacino aperto e l'addome attivo con ogni espirazione guadagna qualche millimetro di allungamento inspira apri espira allunga e 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 piano piano lentamente inizia a camminare con le mani sulle gambe e una vertebra allunga alla volta vieni su fai delle rotazioni con le spalle ora mantieni la gamba sinistra allungata piega la gamba destra e passa il piede oltre la gamba sinistra porta il braccio destro dietro al corpo e la mano sinistra sulla coscia apri bene e fai una torsione del busto guarda verso la spalla destra e continua a mantenere la colonna vertebrale ben allungata verso il cielo e a fare una torsione con ogni espirazione gira un po' di più ed espirando piano piano allunga la gamba destra di fronte a te e cambiamo lato piega la gamba sinistra passala oltre la gamba destra porta la mano sinistra vicino al corpo dietro e la mano destra sulla coscia sinistra continua ad allungare la colonna verso l'alto e a fare una torsione del busto con ogni respirazione allunga un po' di più piano piano rilasso e allungati sulla schiena porta entrambe le ginocchia verso il petto abbracciale ed inizia a fare dei piccoli cerchietti con entrambe le gambe prima da un lato e poi dall'altro senti la zona lombare che ti viene bene a contatto con la terra e respira ora porta la gamba destra verso l'alto e allungala verso il basso ginocchio sinistro rimane piegato al petto allunga bene respira profondamente senti l'apertura del bacino all'allungamento di entrambe le gambe e espirando porta anche la gamba destra verso il petto ispirando allunga la gamba sinistra spingi un po' con le mani il ginocchio verso terra respira profondamente respira profondamente ora lentamente allunga la gamba a terra apri le mani con i palmi orientati verso l'alto e rilassa tutto il corpo senti il flusso del tuo respiro che entra e esce dalle narici rilassa tutti i muscoli del corpo che hanno lavorato rilassa la mente rilassa il respiro tutto il tuo corpo è completamente rilassato tutto il tuo corpo è completamente rilassato pieno piano inizi a muovere le dita delle mani e dei piedi pilota Fai un respiro profondo, allunga le braccia dietro la testa, allunga bene, fai dei piccoli cerchietti con i piedi, prima da un lato e poi dall'altro, poi girati sul lato. E se vuoi vieni su, portiamo le mani in preghiera di fronte al petto, facciamo un respiro profondo, Sat Nam. Grazie a tutti.